ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video ed eccoci qua come spesso capita con la puntata dei vostri video la reaction che tanto amate una delle rubriche più seguite tra le rubriche più seguite del mondo diciamo che è bella perché vediamo i vostri orologi al di là di come ce li spiegate voi che a volte lascia un po' a desiderare ma d'altronde tante diciamo oggi non vogliamo fare troppi discorsi dai vi faccio vedere subito l'orologio del giorno che è questo simpatico long jean legend diver 39 mm di diametro cassa quadriante nero calibro l888 certificato cronometro un signor orologio che col suo bracciale a chicchi di riso proprio ci dà l'idea della beltà proprio bello proprio bello niente passiamo al primo video diamoci un'occhiatella fuoco con il dito fuoco 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 ciao davide mi chiamo andrea e ti seguo dalla provincia di lecco lecco bravo vorrei farti vedere la mia collezione allora partiamo partiamo dalla tovaglia partiamo dai cuoricini ecco con le foglie intorno ma bravo così ti voglio queste tovaglie italiane ci fanno vedere l'interno delle abitazioni dei nostri compaesani bravi ragazzi con i tre orologi gli unici tre orologi tra virgolette moderni che posseggo il primo è questo emilton khaki field con cassa in bronzo bello che ormai ha preso la sua patina in barbara particolarità del modello appunto è la cassa in bronzo il fondello in titanio e il vetro zaffero che qui mi aiuta anche a livello di graffi e certo di manutenzione è certo orologio che mi piace molto e lo metto spesso durante la settimana bravissimo secondo orologio che metto principalmente d'estate o comunque abitando qua vicino al lago nel tempo libero è questo citizen pro master questa è l'edizione quella che hanno fatto limitata per quanto riguarda l'italia mercato italiano è un full loom e ha appunto il bracciale in titanio brunito caratteristiche del modello le conosciamo particolare da ottimo orologio e anche la resistenza del diciamo del titanio brunito tutto sommato mi ha convinto perché qualche graffietto c'è ma si sta preservando molto bene ecco questo qua era il mio dubbio quando l'ho visto no ma si graffierà si vedranno si graffierà graffiare si graffiano tutti gli orologi poi il punto è si vede tanto si vede poco te mi dici che si vede poco sto rivalutando questo modello qua così in titanio e brunito perché con il quadrante così chiaro magari d'estate un orologio scuro come come ripeto ultimamente ci sta è un bel volume con la cassa e il bracciale scuri secondo me fa anche un bel effetto poi va bene il titanio la leggerezza del titanio mi scoccia la leggerezza del titanio ultimo ma non ultimo no essendo appunto regalo di mia figlia per la festa che trovo che io uguale identico timex expedition al quarzo con funzione di retroilluminazione indiglo che è quella famosa schiacciando il pulsante orologio molto comodo che uso principalmente per lavoro quando mi muovo nei vari cantieri che seguo e lavorando nell'edilizia lo trovo molto pratico e senza paura di sfrisi o sfrisi o problemi vari ce l'ho anch'io uguale identico spiccicato con quello stesso cinturino lì elastico si è dimenticato di dire che la cassa è in resina loro dicono resina perché fa chic è in plastica è un orologio di plastica cassa plastica cinturino in tessuto elasticizzato un quarzo però io ce l'ho non lo uso anzi l'ho messo da parte con la corona estratta perché ricordatevi che la batteria è tua nemica la meccanica ti tende la mano la batteria è tua nemica quindi ho staccato la corona in modo che non la consumi più di tanto ma e poi a un certo punto dovrò anche aprirlo e asportare la batteria perché sennò poi passiamo invece a la mia vera passione che sono gli orologi vintage vai parto con due orologi di forma questo zenith bello che è molto particolare perché ha una cassa da 32 mm ottagonale cassa in oro è quadrante con la trama in tessuto colore blu canvas particolarità appunto è la cassa ottagonale e anche la coroncina che rimane nascosta dietro la cassa molto elegante sicuramente particolare diciamo che non se ne vede non se ne vedono in giro molti ebbè meno male secondo orologio sempre di forma questa volta in casa longin è questo longin meccanic bellino che è una referenza abbastanza difficile da vedere dai fine anni ottanta e cassa ellittica a scalino molto particolare anche se no con la la sua coroncina aumentata movimento meccanico e quadrante soler soler è un blu nero molto 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 particolare mi piace lo vorrei anch'io il coccodrillo e il la fibbietta longina mi piace nella mia collezione ci starebbe bene se me lo vuoi regalare altro orologio sempre di un vintage un po più moderno è questo wheeler strano i video t660 dyna wind particolarità è la cassa monoblocco quindi che si svita dal vetro corona ore 4 movimento automatico su base eta cassa da 35 mm e le sfere molto particolari come puoi vedere diciamo un bello orologio mi piace chiamiamolo diver ma lo trovo molto molto attuale molto facile da usare anche tutti i giorni come orologio da tutti i giorni tra l'altro a mio parere in condizioni più che buone anche quadrante con gli indici applicati è molto molto ben tenuto se mi piace promosso questo diver però non mi sembra l'altro orologio degli anni 60 è questo Longin Olimpia si chiama Olimpia appunto perché è un un omaggio che Longin fece nel 1960 per le olimpiadi di roma particolarità è appunto è il medaglione con indicati diciamo i vari sport olimpici ci piace carino e particolare altra particolarità è un quadrante bitonale diciamo non di quelli proprio esasperati però anche questo appunto quadrante bitonale e movimento 30l sicuramente un ottimo mi ci vorrebbe anche questo qua nella mia collezione ragazzi come mai altro Longin che ho il prasere di presentarti molto più particolare anni 40 è questo Longin di questo è del 1949 ha visto è un movimento 1268 zs e con i diciamo i secondi centrali eh sì particolarità è appunto è questa cassa oversize perché sono all'incirca 37 centimetri centimetri mi sembra 37 36 o 38 millimetri e e comunque sia appunto che diciamo quadrante bitonale e molto molto particolare ecco anche il movimento è molto molto rifinito essendo appunto 1268 zs vuol dire secondi centrali sono riportati perché il 1268 z ha la secondina ore 6 qua con un ingranaggio o due in più non so quanti non sono tecnico l'hanno riportata al centro e mi sembrava stavo cercando di guardare che nella parte che va dal 12 al 6 la lancetta zoppica leggermente ma è normale di solito mi sembra che zoppichi leggermente comunque bello però mi sembrano tutte e tre uguali le sfere io si fa fatica a riconoscere qual è quella delle ore e quella dei secondi comunque va bene tonnojin di quegli anni che tutti conosciamo purtroppo come si può entra a vedere la sfera delle ore non è la sua ma è stata adattata in non so in quale anno e sarà appunto mio compito pian pianino riuscire a trovare quella corretta per essere proprio puntigliosi anche quella dei secondi gli manca la codina dietro a contrasto della sfera vera e propria ecco fatto però ecco lo trovo comunque un orologio portabilissimo e cinturino è piccolo particolare è bello molto cinturino non è della sua misura a lanza altro orologio voglio farti vedere è questo lip lip casa francese allora questo in particolare l'ho trovato non funzionante in una gioielleria ho deciso di prenderlo purtroppo non ho trovato nessuno capace di sistemarlo in italia e ho deciso di spedirlo direttamente in francia a farlo revisionare pensate particolare appunto è la cassa completamente scheletrata con il suo movimento lip r 148 scheletrato e particolarissimo come ti ho detto è praticamente nuovo è una vetrina è molto particolare è stata la risposta di lip a i vari acutron e comunque gli orologi con movimento elettromeccanico negli anni settanta problemi di batteria qua non ce n'è si può mettere qualsiasi orologio più unico che raro questo tavannes con movimento carica manuale qua ci vorrebbe il nostro amico svizzero tutto appuntiglioso sulle pronunce no tavannes anche io l'ho sempre pronunciato tavannes ma secondo me si pronuncia tavannes come si pronuncia tavannes tavannes senza dire la era s no tavannes però se ci fosse un amico svizzero mi riprenderebbe subito sulle pronunce chiaramente tavannes anche lui la particolarità è la carbe cassa in oro ma soprattutto è questa incisione sul fondello direzione generale artiglieria spettacolo 39 40 le date probabilmente è stata era un orologio commemorativo appunto in questa epoca storica e quindi oltre appunto al fascino che può avere cosa che trovo molto molto affascinante il quadrante con gli indici romani e appunto la patina del tempo che lo contraddistingue è appunto anche questo richiamo storico molto particolare se vuoi anche unico è un riferimento storico particolare cioè attesta che questo orologio è degli anni 40 non lo so potrebbe essere commemorativo no del 39 40 te lo regalo quindi ti faccio scrivere su 39 40 non prima o dopo va beh insomma è a cavallo però del 40 ha fatto la seconda guerra mondiale sicuramente quasi si inizia a parlare già di orologio d'epoca neppure vintage siamo siamo negli orologi d'epoca in quegli oggetti che vanno anche un po' custoditi e tenuti con riguardo a utilizzarli già comincia ad essere una cosa un po' fuori bello complimenti complimenti che per gli altri bravo bravo ultimo orologio che anzi diciamo penultimo orologio è un altro logine è questo logine e dai cassino la 34 il movimento dovrebbe essere un 400 comunque della serie 400 adesso non ricordo di preciso quale particolarità però che volevo mostrati di questo orologio è il quadrante perché non so se si può notare perché difficile da vedere ha un o swiss made o cercando un po sui forum documentali dovrebbe essere proprio un quadrante in oro proprio in oro massiccio e la sua coroncina ma un incisione sul fatto che data c'era dimmelo dovrebbe essere intorno agli anni 70 anche questo e particolare diciamo anche questa lavorazione del quadrante difficilmente mai visto io si vede questa volta ultimo orologio allora quello lì calibro 428 praticamente su base 420 che è stata fatta nel 1965 quindi la tua datazione ci sta poi c'hai anche dedica dietro quindi c'è la data io non l'ho letta non ho fatto un tempo base 420 428 era il 420 senza la città dei secondi e fate lì la città dei secondi non c'è poi c'era mi sembra 429 insomma o no certi modelli poi cambiavano direttamente in 485 486 che non c'entrava poco niente però erano sempre su base questa da non confondersi con il 431 che poi è l'ultracron che verrà fuori nel 67 quella 36 mila alternanza bello tutti i longin che hai sono tutti belli tutti che vorrei nella mia collezione perché io riesco semplicemente a trovare gli longin quelli tutti uguali con un vintage tutti con la stessa lo stesso quadrante la stessa cassa saranno quelli che costano meno che sono un pochino tirannosauro io no però questi qua almeno hanno tutti un aspetto particolare che ci starebbe benissimo no quello ovale quello sector dial questo quadrante in oro ma uno dei miei preferiti è questo vulcan cricket particolarità di questo vulcan è la cassa perché è una cassa oversize quindi sono 37 mm fuori per la risonanza l'ho fatto completamente revisionare rimettendo a nuovo tutti i pezzi che necessitavano di di essere sostituiti e ne sono molto contento è un orologio che che trovo abbiano un fascino tutto suo senza contare appunto la particolarità che è già stata spiegata in più video dell'allarme svegliarino dell'allarme meccanico particolare del suono particolare che questo produce con questo orologio ti saluto spero che la mia collezione ti sia piaciuta e a presto molto mi è piaciuta molto complimenti per tutti gli orologi anche questo vulcan cricket qua lo svegliarino no l'allarme meccanico come dici te ci sono persone che sono appassionate di svegliarini no palliot eccetera eccetera certo ti hai scelto il vulcan cricket che è quello il capostipite quello più pregiato questi chi anche avete visto poi la doppia cassa dietro con i fori quei fori servono per aumentare la cassa di risonanza dello svegliarino in modo che il suono si possa propagare al meglio e risultare più udibile si sente anche la vibrazione in questi svegliarini sappiamo che il vulcan poi a tutt'ora tutt'oggi fa gli svegliarini di vulcan cricket con il calibro di manufattura e tanta roba complimenti per tutti gli orologi bellissima collezione improntata sul vintage e anche molti lungi in vintage come dicevo prima che sarebbe interessante avere in collezione quindi se mosso da una da un moto di altruismo vuoi regalarveli io in privato ti posso mandare anche l'indirizzo così me li spedisci e vanno a finire in mani fidate prossimo video ciao davide ciao alessandro da roma a forza di vedere i tuoi video mi è venuta voglia anche a me di mandarti la in visione la mia collezione bravo allora cominciamo subito con i quarzoni come vedi questo è il solito casio g shock e questo ha la particolarità della lunetta in carbonio e ha questo quadrante molto molto leggibile chiaro anche di notte con la sua lucetta che roba poi vai questi swatch della serie a emissione sul saturno e classico missione sulla luna bravi a questo messo un cinturino di silicone con con la fibbia e il passante omega originali si è stato anche a spendere dei soldi per mettergli il cinturino originale omega cioè ma veramente a volte io non capisco tanto per farlo un po più carino è certo e a questo invece ho messo un nato nello stesso marrone del cinturino originale purtroppo i cinturini originali si si segnano e si rovinano immediatamente è meglio conservarli certo poi passiamo ai subacquei un brightling super ocean anche questo chiarissimo e leggibilissimo al buio non mi fa impazzire però è bello bellissimo fondello senza scritte poche poche molto massiccio centurino originale con la bella fibbia va bene da lo quace poi abbiamo questo omega si master planet ocean questa è la versione a 600 metri con la valvola per l'espulsione dell'elio top le ho dato il top planet ocean si chiama bellissimo fondello anche gli omega ipocampo si chiama ultimo subacqueo 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 e questo classico submariner submariner bravo 16 610 e ho acquistato questo nell 88 mi trovato per caso in un negozio a parigi un concessionario a parigi per caso a roma erano già molto difficili da trovare per caso no in un negozio per caso no nel negozio poi passiamo ai crono il crono vitesse cominciano con questo crono mat dell'86 questo è il primo che acquistai e ho cambiato il quadrante nel 2000 il quadrante originale era bordeaux con le con le vecchie lancette quelle semplici bordeaux invece è molto più sportivo molto più accattivante questo questi numeri arabi in corsivo ma mi piace e le nuove le nuove sfere vedi con con la b e con l'ancora si ma io avrei lasciato originale cinturino gomma brightling anche questa la la fibbia con incisione poi il secondo è questo gp 7000 unica cosa che non mi piace più tanto il quadrante bianco è un po cosiddetta oro rosa a un design in argento design un po datato è mantenuto molto bene perché è stato poco lo userei poco anch'io poi abbiamo questo è bello un po più dove dire questo breghe breghe top iron ball tanta roba type 20 e 20 con la complicazione del fly back il secondo pulsante avancetta dei secondi si azzera e riparte immediatamente per la conta del secondo tempo il breghe top 20 è uno dei pochi se non l'unico breghe che che mi aggrada cioè ripeto l'ho detto altre volte vai sui cataloghi delle maison anche storiche grandi ti metti a guardare gli orologi breghe vedi degli orologi che non si possono guardare parte che costano ma anche volendo lanciarsi nel voler avere un breghe che no è il simbolo dell'orologeria breghe già fai l'unico è questo qua che però non è niente di originale bello 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 poi anche spesso c'è una linea che uno fa l'alta orologeria dice ti faccio un bel cronografo te lo faccio sottile come una sottiletta no paghi e te lo fanno spesso come gli altri quindi uno ci pensa due volte no ancora il suo cinturino originale bello marrone scuro con la con deployante e la fibbia breghe poi l'ultimo del crono il top cosmografico bravo tutto acciaio anni 90 questo sottile 16 520 questo montava ancora il movimento zenith è il primero orologio mai revisionato ma va ancora molto bene sì ma non è un vanto e prende qualche secondo al giorno a ecco nella norma come nella norma poi abbiamo questi classici che sono il the just the just top acciaio oro a me piace molto il il quadrante il colore del quadrante perché è un non è uno champagne un avorio soleil soleil e visto molto poco anche questo mai aperto si è orgoglio non funzionano stanno per morire e poi abbiamo questi ultimi due questo appartenuto a mia madre dopo l'oro c'è chi lo indossa anche da un uomo e non so quant'è molto sottile sottile si diametro quanto è molto elegante un dress watch molto elegante e questo è quello che appartiene a mio padre questo crono famiglia è automatico e in famiglia tutti i orologioni bravo tutto d'oro non è neanche troppo spesso per essere un cronografo bello la fibbietta la sua fibbietta lascerò lascerò gonfia e ultimo acquisto è questo gonfia explorer da 36 milline purtroppo perché non ho trovato il 40 o il 39 come quello che hai tu per fare questa prova ho messo un cinturino tipo oyster flex come viene come sta fibbia la sua originale ma credo che tornerò al al cinturino al suo cinturino originale allora questo è tutto niente da ti ringrazio spero che farei vedere questo questo facciamo vedere sì da e ti faccio i complimenti non solo per la tua preparazione ma soprattutto per la simpatia e per le battute e le facce soprattutto che fai quando quando fai vedere i nostri video grazie ancora a te saluto ciao 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 mii o miei qua il gonfia stragonfia rigonfia ci sta quanti orologi di pregio hai poi in famiglia di solito cioè se hanno gli orologi del nonno del babbo no il vetta logini cerno zen it anche qua abbiamo il Vacheron Constantin e Porco Giuda d'oro begli orologi non ho capito la prova lì dell'Explorer con quel gommino lì non so non mi sembrava tanto ora lo vorrei provare anch'io però non lo so l'Explorer con un cinturino in pelle come sarà? potrebbe stare anche bene potrebbe stare anche bene non esiste la versione dai begli orologi nulla da dire esposizione un pochino così altalenante per l'esposizione diamo un 5 si può fare di meglio per gli orologi gli diamo un minchia perché ce ne sono veramente tanti di belli Daytona un cronografo sottile è il Daytona non è sottilissimo però perlomeno è proporzionato il Breguet è spesso è spesso costa anche di più non si capiscono queste cose qua poi dopo dice uno piglia sempre i soliti orologi e per forza fatemeli un po' fatti bene ciao Davide ciao una rapida carrellata dei miei orologi sono Giuseppe dalla provincia di Bari allora cominciamo con il più antico dei miei orologi quando assolutamente non ero ancora appassionato di orologeria ed è questo swatch al quarzo bello non c'è molto da aggiungere è un orologio che ha svolto la sua funzione mi ricorda gli anni in cui studiavo e devo dire sono passati ormai parecchi più di 20 poi ci spostiamo al primo orologio meccanico a carica automatica in questo caso che ho acquistato quando ancora non ero però appassionato di orologeria ed è questo venezianico redentore verde con il suo bracciale mi pare che si chiami Canova un orologio assolutamente onesto soprattutto in relazione al prezzo e anzi devo dire che sembra essere un orologio più costoso di quello che è effettivamente costoso è certo Seagal ST19 esperimento volevo un cronografo e ho visto che i prezzi dei cronografi sono veramente altissimi per me e quindi mi sono divertito con questo semplicissimo ma devo dire fatto Seagal perché monta l'ST19 che sarebbe un rifacimento del Venus 170 sa un po' di cinese nel suo quadrante ma altronde ricalca quelli che sono insomma le sembianze dell'orologio a cui si ispira quello dedicato all'aviazione cinese Deve essere così vengano gli orologi che hanno i caratteri cinesi gli ideogrammi su quadrante che richiamano la Cina che rivendicano con orgoglio il fatto di essere un orologio cinese cioè io preferisco questi a quelli che copiano un orologio svizzero in tutto e per tutto pur provenendo dalla Cina cioè non lo so è come è come che uno stilista italiano copiasse uno stilista bulgaro magari ci sono degli stilisti bulgari bravissimi però la fama è quella di avere un design originale di essere originali con le scritte perlomeno che reclamano declamano proclamano la propria cinesità cinesità è brutto però montato con un cinturino racing marrone ci spostiamo Seiko Presage CMT la particolarità di questo orologio che mi ha stregato è il vetro bombato che presenta delle diciamo dei riflessi e delle distorsioni che sono veramente interessanti e poi è molto sbrellucicante adesso forse la luce non consente effettivamente di notarlo ma gli indici e le lancette si notano molto per il loro il loro colore dorato bene o male Siamo qui al Citizen Tsuyosa giallo mette allegria tutte le volte che lo indosso se sono triste indosso bravo e anche l'orologio preferito da mio figlio mi ha chiesto di tenerglielo in servo per quando avrà un polso un po' più grande per poterlo indossare e di fatto glielo sto tenendo promasta e quello che invece mio figlio indossa a undici anni spesso soprattutto quando andiamo al mare è proprio questo Citizen promaster è una versione molto classica molto conosciuta blu perfetto per il mare tutto raschiato è un vero e proprio tool watch e anche questo quando lo indossiamo sia che lo indossi lui sia che lo indosso io mette allegria perché vuol dire che stiamo andando al mare bravi ci spostiamo in Murph nell'orologeria svizzera Hamilton Kaki Murph da 38 mm perfetto sul mio polso da 17 funziona alla grande estremamente preciso come sappiamo ha delle peculiarità che sarebbero la corona molto grande quasi sproporzionata rispetto alla cassa molto sporgente che però devo dire è un piacere utilizzarla per la carica manuale anche se si dice che gli orologi a carica automatica è meglio non caricare manualmente ma mi fa piacere girarla ecco la sensazione è gradevole quasi come quella di un carica manuale l'altra peculiarità di questo orologio è l'antiriflesso completamente assente non so perché l'Hamilton non ci ha pensato a fare un antiriflesso migliore però devo dire che mi piace così com'è non cambiare niente bravo tranne il bracciale se ci fosse il cinturino intendo dire il bracciale del 38 del cacchi 38 che si applica perfettamente a questa cassa so che Giacomo della gioielleria Pasquali Domenici aveva intenzione di fare una prova mi sai dire se l'ha già fatta sapresti magari potresti indicarmi se ci sono delle foto in giro con la prova perché insomma sarebbe carino vederlo con quel bracciale perché se si integra io sono uno di quelli che tranquillamente lo metterebbe allora ti consiglio di attendere qualche mese qualche settimana qualche mese per poi vedere cosa succederà ti dico solo questo attenti Longin regalo del nonno di mia moglie che oggi ha 96 anni un anuncio meraviglioso degli anni 70 immagino è stato tenuto perfettamente non era mai stato revisionato fin quando l'ho avuto in regalo io e l'ho fatto finalmente revisionare marcia perfettamente tutto originale tranne il cinturino che ovviamente non era già il suo quando l'ho preso ma era comunque da cambiare la fibbietta originale la corona originale insomma ha perso soltanto la sostanza luminescente dalle lancette e l'orologio io non ho voluto rimettermela non so per quale motivo ma comunque è bello così va bene così questo è ancora più antico sempre del nonno di mia moglie è un longin che è stato regalato a lui per la prima comunione nel 1935 incredibile come si sia insomma sia stato lavorato dal tempo questo quadrante 1935 oh guardate qua è scomparso tutto la scritta longin la clessidralata è praticamente scomparsa la parte bianca è il sottoquadrante sicuramente gli altri pezzi si sono distaccati vedete le crepe del 35 io veramente è bello quando ci sono queste situazioni perché praticamente mi certifica che questa persona l'ha ricevuto alla prima comunione nel 35 quindi sappiamo l'anno sappiamo che è giunto ai giorni nostri così sulla secondina non ci sono più nemmeno gli indici non fargli fare niente guarda non non restaurarlo non provare a fare niente perché andrebbe ristampato completamente il quadrante ma mi perde cioè a me non mi interessa questo qua è un orologio d'epoca io non lo devo avere questo qua per indossarlo e andare in giro al bar questo qua me lo devo mettere nella collezione lì nella tecca e dire del 35 ai giorni nostri è arrivato così credici non credici leggi quello che puoi leggere questo è il quadrante che arriva dal 35 fra un pochino sono 100 anni così tanto per dire adoro semplicemente guardarlo ogni tanto lo indosso pure forse il cinturino è da sostituire con uno di un altro colore anzi se hai qualche se ti viene qualche intuizione di colore che ci possa stare bene che tipo di cinturino ci può star bene su questo quadrante così particolare ti ringrazio nero se mi dai qualche qualche dritta e poi una volta in un viaggio in Giappone ho acquistato questo Seiko King King Seiko io ovviamente l'ho preso braccialato però poi mia moglie mi ha regalato anche il cinturino più che altro perché mi lamentavo del bracciale che era leggermente più che scomodo è difficile trovare la giusta regolazione togliendo una maglia ma è così è così bello il King Seiko braccialato il bracciale fa parte della bellezza dell'orologio un po' come il Legend Diver così il bracciale fa parte della bellezza dell'orologio ci sono certi tipi di orologio che non possono prescindere dal bracciale originale in questo caso l'avrei tenuto cioè trova il sistema il polso non è sempre uguale l'estate ha una circonferenza d'inverno ne ha un'altra ci sarà un momento in questi 12 mesi nei quali un tocco di mesi ti sta a pennello e in quei mesi lo usi più di tutti poi magari lo metti a parte ma utilizzarlo con un cinturino così me lo sminuisci secondo me poi amici dite la vostra qua sotto perché secondo me mi perde mi perde troppo stretto rimettendolo troppo largo e quindi mia moglie stanca di sentirmi lamentare e nonostante l'orologio mi piacesse molto anche col bracciale mi ha comprato questo cinturino originale King Seiko con la fibietta anche delicata tosta zitto Seiko SKX immancabile in collezione funziona alla grande ci piace le sue peculiarità sono l'assenza dello stop dei secondi peculiarità che altro il vetro hardlex il bracciale che suona come un serpente a sonagli ma sono tutte peculiarità che io adoro mi piace così com'è non lo cambierei non lo venderò mai e lo indosso spesso l'orologio più costoso della mia collezione è questo Omega cassa in oro l'ho comprato io un po' una follia perché non ero ancora abbastanza esperto di orologi sono stato stregato da questo quadrante vediamo se riesco a vedere la lavorazione del quadrante veramente speciale a nido d'appe quasi no e poi questi indici in oro le lancette dofenne in oro tranne quella dei secondi che è un po' corrosa immagino non sia oro non so se è stata cambiata non ho idea che diventi così insomma è un orologio che mi piace tantissimo Corona non è la sua originale abbiamo cercato una colora con l'orologiaio che si adattasse il più possibile quella originale non l'ho trovata perché ho trovato una non logata quindi ne abbiamo cercato una col logo che però non è oro rosa è difficile trovare corona in oro rosa comunque è una cosa che io adoro tantissimo le fondono grazie Davide di tutto e a presto a presto gran bella collezione di orologi vintage entry level non ti si può dire niente poi si sente che sei un appassionato che ce li hai anche spiegati bene 8 per l'esposizione bravo poi il discorso della corona mi è venuto così un flash mentre dicevi non si trovano le corone d'oro perché la prima cosa che uno fa si trova un pezzettino d'oro lo vende come oro hai capito ci fai dei soldi tra virgolette lo vedi un pezzettino d'oro cosa faccio lo tengo lì perché se qualcuno lo vuole glielo vendo lo fondo lo vendo come oro faccio così comunque complimenti anche per quel longin del 35 mi è rimasto qua anche te se vuoi mandarmelo per completare la collezione mia io mi baso su di voi ragazzi dovete aiutarmi a completare come l'album delle figurine minci cielo minci cielo l'ha completato e mi ci vogliono tutti i longin di tutti gli anni con tutti i calibri per completare la collezione quello lì del 35 andrebbe a puntino a finire lì dentro quindi se un giorno ti stufi sono qua prossimo video ciao Davide sono Patrick della Costa Azzurra ti avevo mandato il primo video alcuni mesi fa l'avevo realizzato con questa cassa di vino e l'avevo fatto nel fine 2022 adesso siamo al fine 2023 e ti volevo mandare un aggiornamento intanto ti ringrazio per tutti i momenti di divertimento e di spensieratezza e di arricchimento sulla nostra passione in comune e passiamo subito ai primi nuovi acquisti vai a gennaio di quest'anno avevo voglia di qualche vintage e ho preso una sitiz in carica manuale bravo da poche pretese carino mi piaceva lo stile anni 70 anni 70 bravo il suo bracciale con calma il suo fondello la vite un orologino da poche pretese 37 mm simpatico carica manuale piace molto il quadrante degrade dorato poi la scimmia del vintage non mi ha lasciato e ho preso questo cassaforto del tempo DeFi 37 mm in condizioni abbastanza messo maluccio a livello estetico però non è stato praticamente mai lucidato si vede o quasi ah si e con il suo bracciale originale geffrey bello 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 funziona perfettamente vedo che il topino il quadrante che ha sicuramente dei punti di imperfezioni e mi piacerebbe anche farlo restaurare e direi di sì visto che qualcuno so che in Italia c'è qualcuno di molto bravo di valido è un orologio che mi piacerebbe rimettere in condizioni estetiche stupende anche se magari va contro natura ma a me piacciono gli orologi perfetti eh no ci sta anche a me piacciono perfetti dopo lo Zenith ho voluto un VARGIU 7750 un orologio placato oro ho preso questo Lorenz volevo un orologio poco impegnativo un cronografo automatico si e ho trovato questo orologio gli ho cambiato il cinturino perché si era distrutto ora è bello il suo anche questo diciamo un orologio che non ha grandi pretese ma che funziona molto bene è sempre un 7750 piazzato lì e con questo ho chiuso diciamo il vintage mi è venuta la scimmia per i Seiko soprattutto Seiko 5 e erano uscite un paio di collaborazioni interessanti a inizio anno a fine anno scorso non ricordo Brian May non riuscendo ad accaparrarmi questa l'ho comprato con qualche decina di euro in più da una persona che ce l'aveva nuovo mai utilizzato questo mi piace parecchio perché ha questa particolarità del fondello bicolore trasparente e questo richiamo al vintage con questa anche migliera particolare brio e anche un fondello particolare Kavamura era una serie in 3000 pezzi e ce n'era anche un altro limitato a 500 pezzi vabbè allo stesso momento mi piaceva anche un altro dedicato a a un film una serie televisiva di fantasia su Ultraman Ultraseven se non sbaglio ma più che per la serie mi piaceva il suo stile si e con il suo nato dedicato alla alla sua diciamo serie limitata alla alla sua e mi piaceva molto come giochi di colori non si riesce a dire una frase tutta intera ragazzi com'è sta storia e poi sono riuscito a trovare un bel SKX in condizioni ottime full set del 2020 e lo 009 da quando l'ho visto sul tuo polso l'ho preferito dello 007 bravo secondo me è un orologio bellissimo simpatico perché sta tutto a destra quando lo metto lo indosso per diversi giorni senza che mi stanchi senza che mi dia voglia di metterne un altro dai che ce la fai dai dai e dopo diciamo l'ultimo seico di qualche mese fa questa esatta riproduzione questo mi piace assai è un modello degli anni 70 del primo 6.5 sport e anche qui e anche l'unica differenza stava nel bracciale dove è molto simile ma non identico e anche questo un bello orologio eh sì molto bello dopo di che ho optato per un day just e lo volevo con la ghiera argentè argentè cioè il quadrante scusa argentè e ho trovato questo di secondo corso e la penultima referenza con il bracciale super jubileo top un orologio di 2014 quindi a qualche anno ma in condizioni perfette con garanzia e tutto e lo mette anche mia moglie diciamo che è più il suo che il mio bravo dopo ho voluto ho voluto un Cartier Santos faccio anche io mi piace questa referenza che è la penultima penultima che è un po' più grande di quella classica il Galbet ed è sicuramente meno quadrato dell'ultimo sì alle anze più lunghe e mi piaceva molto questo dovrebbe avere calibro di fornitura anche se poi a livello di prezzo cambia poco con l'ultimo perché è un orologio che non si trova in esemplari abbondanti il 28-23 e e dopo sono riuscito a trovare questo panierai semi nuovo 44 mm fine 2022 full set da un amico che lo vendeva e poi in ultimo c'è il regalo di mia figlia non so se l'ho già fatto vedere inizio video un flick flap per imparare a leggere bello orologio del giorno è guarda lì che inquadrature stupendo explorer 2 polar che ti avevo già presentato nel mio video e ti ringrazio ti saluto un abbraccio e a presto mamma mia che parto ragazzi voce sottovoce lenta poi dopo non riesce a finire una frase cioè proprio come non si deve fare un video così cioè a spezzoni no dell'orologio dell'orologio blu e di una frase intera dell'orologio blu niente non ci si riesce comunque soprattutto in questa ultima parte belli orologi no di pregio come si deve come mi aspetterei no per i top sparati tutti e nella prima parte invece è speso un sacco di soldoni in 6 o 5 limited edition tutte limited edition che costano di più però contento te contenti tutti ci sta anche questo questo verso qua del collezionismo cioè delle limited edition dei 6 o 5 va bene ci sta io non lo farei io una volta che hai un 6 o 5 lo tieni un po' poi magari lo vendi oppure poi ne riprendi un altro però sempre uno alla volta tanti 6 o 5 mi sembrerebbe un po' sprecato perché sempre il solito discorso con tutte le le cose gli orologi che ci sono in giro attorno e uno vorrebbe provarne il più possibile no e sempre andare sulle solite cose poi dopo alla fine diventa un po' monotono per me poi ognuno ragiona con la propria testa bravo fai qualche qualche lezione di edizione di no di esposizione perché sennò il prossimo video si rischia il suicidio ciao Davide sono Marco D'Acuneo e voglio farti complimenti per il canale grazie ti ringrazio se pubblicherai il mio video e niente bando alle ciance iniziamo con la mia piccola collezione partiamo dagli orologi al quarzo sono i primi due sono due orologi Furlan Murray che è un piccolo brand ho supportato questi ragazzi dall'inizio quindi da quando ho annunciato la campagna su Kickstarter per partire credo che gli orologi siano molto molto ben fatti hanno questa cassa dietro esagonale molto carina sono appunto orologini al quarzo molto semplici però visto che la casa è andata avanti ha iniziato a fare anche dei begli automatici quindi sono contento di aver contribuito un pochino aver dato una mano a questi ragazzi a partire questi ormai si hanno comprati circa tre anni fa dagli soldi bravo sì al quarzo abbiamo questo iwc pilot questo in realtà è un orologio meca quartz ha il diciamo il cronometro che si attiva con diciamo automatico mentre la l'ora è al quarzo tendenzialmente è un un lascito quindi sono molto contento di averlo è piccolino perché è un 34 molto molto vestibile non gli ho messo questo cinturino con la fibietta originale per dargli un po' un tocco esotico per finire l'ultimo orologio al quarzo è questo è un orologio di mio nonno è un trapiatto infatti veramente molto molto sottile perché appunto è molto sottile lo utilizzo qualche volta devo dire non lo spesso quando c'è qualche occasione elegante però è un bellissimo ricordo mi è stato regalato per la laurea quindi sono molto contento di averlo in collega bravo invece andando agli automatici il primo che ti faccio vedere è della mia compagna piccolino è questo rolex acciaio oro quadrante champagne molto molto carino lei lo utilizza spesso secondo me da da donna è veramente veramente un gioiellino il primo è questo universal geneve white chow l'ho comprato l'ho comprato ad un'asta devo dire mi piaceva molto l'idea del quadrante della forma della cassa scusami il quadrante purtroppo così come la corona non sono originali però tendenzialmente a me piaceva lo stesso e quindi l'ho comprato mi piace molto l'idea del bracciale integrato è un orologio un po' diverso che anche in questo caso non utilizzi tantissimo perché perché un orologio dà più da occasione comunque in ogni caso il quadrante anche se ristampato con questo blu è molto molto bello la mia domanda mi viene spontanea uno se ne deve anche un attimo intendere io non ho universa non lo so il quadrante non è il suo la corona non è la sua quindi su cosa ci basiamo che è un orologio originale cioè l'hai aperto che calibro c'è dentro perché se no io mi stampo un quadrante di universa geneva ci metto una corona una cassa qualsiasi ovale magari un vintage degli anni 70 cosa ne so te lo vendo come universa geneva non lo so dimmi almeno che calibro c'è dentro cioè che ristampato se stampano gli orologi i quadranti degli anni 40 50 60 un orologio così sarà degli anni 70 80 lo ristampi già boh proseguendo sul vintage questo movado ma vado diciamo triplo calendario questo quadrante sembrerebbe ristampato ma in realtà non lo è nel senso che non riesco a farlo vedere ma ci sono dei segni del tempo delle palline che mi indicano il fatto che non lo sia è stato tenuto da un unico proprietario che l'ha tenuto in un cassetto e quindi si sono mantenuti i colori incredibile però è così è un carica manuale con un ottimo movimento veramente molto piccolino gli ho montato questo nato che non mi convince troppo l'ho preso mi sono appassionato principalmente per la cassa che è questa cassa esagonale fatta da Borgel questa cassa esagonale da Borgel non è la cassa che è esagonale anche prima hai detto la cassa è il fondello che è esagonale il fondello a vita esagonale perché lo no la cassa è tonda e niente diciamo che sono molto felice del mio acquisto ormai è venuto qualche anno fa questo questo quadrante è incredibile considerando soprattutto diciamo il tempo che ha vissuto questo orologio e il movimento è fantastico perché come hai visto appena ho girato è partito sì ma invece vedendo fantastico perché partiti abbiamo questo Rolex Oyster 34 mm che è tutto in oro quadrante champagne champagne e tendenzialmente poco da dire un bellissimo orologio su questo è montato su questo albligatore blu con la sua fibietta top è un orologio che appartiene alla mia famiglia da tanti anni e ogni tanto lo uso è un pochino vistoso però il fatto che sia 34 mm lo rende più vestibile il regalo della mia compagna l'ultimo entrato in collezione è questo squale 1521 green orologio fantastico che ha questa la cassa classica squale quindi fondamentalmente questa asimmetrica con la regolazione qua e l'ho montato questo tropi che in realtà nasce con questo qui nasce con un cinturino in pelle cassa quadrante fantastico e niente ci piace sono particolarmente legato proprio perché è un legalo della mia compagna compagna proseguendo sui diver pascha sea timer molto particolare perché oltre a essere un pascha ha questo scusate un po' sporco ha questo bracciale che è ricoperto da cauccio e sotto è di acciaio quindi lo rendo un diver mi interessava molto la storia del pascha quindi tutta la questione di Gerald Genta ma anche prima quindi tutto quello che rappresentava prima per il pascha di Marrakesh quindi mi sono appassionato molto alla storia trovo bellissimo diciamo la la mobilizzazione tramite questa questa capsula e questo era un modello era un diver un pochino diverso dagli altri pascha classici diciamo che non è il classico Cartier perché ha i numeri arabi ma mi piace molto 40 mm quindi veste anche abbastanza abbastanza bene diciamo un orologio un po' importante però io ho un posto molto piccolo e mi sta sto dilungando quindi devo accelerare orologio al titanio bulgari opto finissimo questo si che è invece un gioiellino mamma mia sottilissimo come lo dice dice il nome ha un diciamo dietro questo quadrante a vista che è molto molto interessante tanta roba un orologio importante anche lui proprio perché nonostante sia un 40 mm con questa cassa risulta essere più grande rispetto a quello che effettivamente è molto interessante molto particolare non piace a tutti però comunque io ce l'ho in correzione sono piaciissimo io non l'ho mai provato sinceramente è un bello orologio cavoli guardate la sottigliezza che ha il calibro sottilissimo però non l'ho mai provato ho il timore che lo vedo che è grande sul polso degli altri magari un pochino più piccolo lo potrei anche iniziare a prendere in considerazione l'ho un po' lasciato a parte l'ho un po' sottovalutato diciamo così questo orologio qua perché secondo me il polso è grande come dici te quindi mi frena un po' grande sottile frittella magari lo farò più piccolo magari lo prendo in considerazione magari però costa costa ultimi tre sono tre Omega bello questo top Omega Seamaster Planet Ocean bello questo ce l'ho da tanti tanti anni bravo ho la versione da 42 mm con la ghiera arancione un orologio che conosciamo tutti benissimo è un driver fantastico si poco da dire è un po' utilizzato come vedete ai segni del tempo mi piace però sono sono molto contento di averlo anche questo orologio regalo di Crazy Speedmaster automatico date quindi con tutte la data ai bordi qui al giorno della settimana e il mese anche questo è un orologio un po' particolare non è il classico Speedmaster è più piccolino però appunto a me che ho un colso piccolo veste molto bene è un po' più spesso del classico Speedmaster è comunque un orologio che fa bello mi piace tantissimo bravo ultimo ma non per importanza ma non per importanza Speedmaster Silver Snoopy Award questo è stato il penultimo acquisto sono uscito a trovarlo in boutique veramente un orologio incredibile ha la caratteristica di avere qua Snoopy è un'edizione per il 50esio anniversario della missione Apollo 11 che è stata molto sfortunata ma grazie a un Omega si sono salvati si sono salvati proprio perché hanno cronometrato 14 secondi se uno fa partire il cronometro vai non funziona non funziona lo carichiamo un pochino così parte non funziona no ok fantastico il quadrante è argentato qui c'è Snoopy ma la cosa interessante è se uno lo gira il dietro il dietro e fondamentalmente si vede Snoopy che supera diciamo il quadrante su una navicella spaziale ed è veramente incredibile tra l'altro mi dicevano che la ricostruzione della Luna è stata fatta su foto della NASA e quindi praticamente è effettivamente molto 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 accurata e qui sopra c'è scritto Eyes on the Stars quindi devo dire molto molto carino e niente pittoresco con questo ti saluto ti ringrazio e un abbraccio a tutti love 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 complimenti per gli orologi ci hai si è partito con i vintagini bla 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 e poi dopo ci hai stupito con gli orologi di pregio di botto che poi sono anche particolari hai scelto anche le versioni più uno potrebbe scegliere lo Speedmaster come ho fatto io quello più banale che c'è e te hai scelto lo Snoopy bell'orologio bel pezzone un po' pittoresco lì con quelle cosine che si muovono però simpatico poi soprattutto il Bulgari Octo finissimo che non si vede spesso non in molti ce l'hanno lo scelgono è una scelta un pochino audace nel senso che si va fuori dai soliti nomi dai soliti orologi anche se è ben noto è ben famoso però te l'hai scelto ti ripeto mi ferma solamente un po' la grandezza dovrei provarlo anche un pochino meglio al polso però ho sentito dire che esce più piccolo ho sentito dire a quel punto si farà veramente la prova del 9 dai perché come originalità c'è un orologio che non assomiglia a nessun altro un design totalmente proprio ci sta in una collezione ci sta e te lo sei preso bravo boh ragazzi mi sembra ad aver detto tutto spero vi siano piaciuti i video quelli più spiegliati quelli più melensi quelli con gli orologi più entreleve quelli con gli orologi più di pregio ce n'è per tutti i gusti io quindi vi ricordo semplicemente gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao